Nell'incantevole scenario dell'anfiteatro Alan Lomax nel centro storico di Caggiano ha preso il via la tre giorni del Festival della Teologia Incontri, la rassegna che porta nelle piazze del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni spunti di dialogo e di riflessione. Dopo l'anteprima del Festival che ha visto il conferimento del Premio Incontri 2021 a Gianluca Guida, il percorso sul tema della giustizia, scelto quest'anno come traccia della rassegna, ha visto la presenza del professor Gaetano De Simone, docente presso l'Università Lateranense a Roma, presso la sezione San Tommaso a Napoli e presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose San Matteo di Salerno. La sua relazione ha affrontato il tema della giustizia umana e della giustizia divina in una dimensione storica e antropologica, quale sfida posta all'uomo di ogni tempo ma che assume una nuova centralità proprio nell'epoca contemporanea dove il diritto della legge della maggioranza sembra staccarsi sempre più dai principi di giustizia della legge naturale. Nel corso della serata c'è stata anche la performance artistica dei ballerini Christian Vece e Maria Chiara Voria, mentre il giudice Consuelo Ascolese ha portato la sua testimonianza quale donna impegnata nell'amministrazione della giustizia, soffermandosi anche su un passo del magistero di Papa Giovanni Paolo II. Il festival prosegue questa sera a Teggiano con la relazione sulla giustizia riparativa affidata a Don Tonino Palmese, mentre il 5 agosto ad Agropoli, Sua Eccellenza Monsignor Pasquale Cascio, chiuderà la rassegna con una riflessione biblica dal titolo Giustizia e pace si baceranno.